Alla fine sono scesi in strada e hanno manifestato tutta la loro protesta pubblicamente i cittadini di Cingoli ma anche di San Severino o di Iesi o semplici ciclisti che percorrono la statale 502, la Cingolana, una delle arterie più danneggiate all'interno del cratere sismico. Sì, cittadini di fronte ad uno scempio che è quello di una strada, che è una strada statale trattata come se fosse una mulattiera con uno scarico a barile tra le autorità nazionali, regionali, l'ANAS, non si capisce bene chi deve intervenire, abbiamo deciso di rappresentare il nostro disagio. Teniamo conto che non si tratta solo di un problema di sedime stradale ma si tratta anche degli interventi necessari a far ripartire questi comuni gravemente colpiti dal terremoto. È evidente che in una condizione per cui non ci sono comunicazioni e reti stradali adeguate, non ci sono comunicazioni immateriali, banda larga eccetera, noi abbiamo avuto la possibilità di vedere investimenti anche cospicui di imprese internazionali che di fronte a questi disagi non hanno investito sul nostro territorio. È ora di dire che è un anno dal terremoto, occorre svegliarsi, non possiamo accettare questa condizione. Il sindaco come sua abitudine alza la voce e combatte per il suo territorio, stavolta al suo fianco anche tanti cicloamatori che protestano per l'asfalto, veramente arrivato alla frutta. Da dieci anni a questa parte sono nettamente peggiorate, per noi ciclisti è diventato pericoloso, siamo a volte costretti a stare in mezzo alla strada, con il rischio che gli automobilisti chiaramente ci passano sopra, c'è molto rischio di cadere, cadere quindi farsi male fisicamente perché cadere in bici ti fai proprio male e poi anche un danno a livello Il rischio meccanico, rompere un cerchio, una ruota, spaccare un telaio è un costo, si parte dai 500-1000 euro in su e quindi è diventata una cosa molto spiacevole. Gli anni scorsi c'erano molti ciclisti che venivano da Porto Renati, dagli Esi, venivano qua su, era una delizia venire qui. Adesso sono scoraggiati anche loro e fanno altre mete. La manifestazione di oggi, ha pubblicamente dichiarato Salta Martini, è una manifestazione di pura democrazia ed è solo l'inizio di una battaglia per i diritti. La democrazia è il luogo dove si può anche esprimere il dissenso, i cittadini non ne reggono solamente i loro rappresentanti. Noi questa mattina, questa riunione, manifestazione, l'abbiamo organizzata in un giorno, ma deve essere chiaro che se non ci dovessero essere delle risposte non ci fermeremo qui, perché ne va del futuro dei nostri figli e di queste zone.